Olè, 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 forza Juve, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, 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 Juve, ale, forza Juve, vincerai, non ti lasceremo mai. Ragazzi, ragazzi, oggi non si scherza, questo pomeriggio, questa sera non si scherza le 20.45. Questa sera non si scherza, questa sera bisogna succlassare l'Inter e lo dobbiamo fare con tanta grinta, con tanta rabbia e con tanta forza e con tanta determinazione. Bisogna vincere contro l'Inter perché la Juventus vuole la finale come la vuole l'Inter, la vuole soprattutto specialmente Andrea Pillo. Andrea Pillo perché questa sera Inter, Inter, stiamo arrivando, Inter, stiamo venendo, Inter. Oggi giocheremo come vogliamo noi, oggi giocheremo con tanta voglia di giocare e dovete soffrire. Come voi avete fatto a San Siro, lo dovrà fare anche la Juventus. Ragazzi miei, a stasera, e sempre forza Juve, e sempre, fino a fine Bianconero, sempre forza Juve. Non fare scherzi, Bianconeri. Non farmi scherzi, Pirlo. Non fatemi scherzi. Non fatemi scherzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.